Al via la nuova governance del turismo in Toscana, Toscani Together, le linee guida e il piano 2020 di Toscana Promozione Turistica. Un nuovo modo di fare turismo con un piano da 7 milioni di euro, una campagna di branding internazionale per conquistare il mercato cinese e tutta una serie di strumenti innovativi come Toscana Contemporanea e Costa Toscana Sostenibile. Dopo la creazione dei 28 ambiti turistici entra nel vivo il nuovo piano del turismo in Toscana. Direi che si presenta per la prima volta un piano strutturato, organico, frutto di un lavoro congiunto tra il mondo delle imprese e della ricettività turistica, i territori, i comuni, gli ambiti territoriali. È davvero non la presentazione del programma dell'Agenzia regionale ma il momento di sintesi di un lavoro che è partito dalla costituzione degli ambiti. Un piano, quello di Toscana Promozione Turistica, che punta sulla collaborazione per rilanciare tutte le destinazioni della Toscana. Quindi punta a dare ai territori degli strumenti operativi, linee guida, assistenza tecnica e risorse per i progetti. Alla regione una serie di progetti che aprono nuovi mercati e aggregano gli ambiti in destinazioni turistiche di senso. Per esempio il progetto Costa Toscana punta molto sulla sostenibilità di tutta la destinazione della costa che tiene insieme 12 ambiti. Oltre a Costa Toscana Sostenibile importante sarà la promozione di Toscana Contemporanea, itinerari, luoghi ed eventi dell'arte e dell'architettura contemporanea. In Toscana è quindi il momento di fare squadra per la promozione turistica del territorio.